Un racconto toccante attraverso le foto di quello che accade quotidianamente all'interno del Covid Hospital di Pescara. Marco Lussoso, il secondo libro su questo ospedale in cui si lotta giorno dopo giorno per salvare vite umane. Sì, nell'ospedale il Covid Hospital è qui alle mie spalle. All'ultimo piano, come hai detto benissimo tu, si lotta quotidianamente per salvare vite umane. Fortunatamente molte volte ce la fanno, altre volte purtroppo no. Io ho voluto dedicare questo mio secondo libro ai professionisti, come riporto il titolo, perché loro vogliono sentirsi chiamare professionisti. Non vogliono l'appellativo angeli eroi, perché loro non si considerano eroi, ma semplicemente professionisti. Anche se io ci tengo ad aggiungere, visto che ho avuto il modo di conoscerli quotidianamente e vederli lavorare da vicino, che loro oltre la loro professionalità, oltre le loro conoscenze mediche ci mettono il cuore. Purtroppo è inevitabile, quando si fa il fotoreporter di cronaca e in questo evento, in questo periodo, quindi parliamo di Covid, sì, la situazione è drammatica, come si sa e lo sapete tutti. E viverla all'interno, in quelle stanzone, entri in una situazione irreale. E poi vedi con mano la sofferenza, specialmente nel reparto di terapia subintensiva, qui dove le persone e i pazienti sono coscienti. Molte volte ho visto loro che stringevano le mani ai medici, agli infermieri, perché volevano un approccio di umanità, volevano sentirsi protetti. Nel 1995 sono stato in guerra, in Bosnia come reporter di guerra, però lì era un altro contesto, parliamo di un'altra nazione, di un altro popolo, di un'altra situazione. Qui invece mi ha toccato maggiormente, possiamo dire, perché qui è la mia gente. Io sono pescarese, anche se per tanti anni ho vissuto fuori, però io sono pescarese in questo ospedale in linea d'aria a un chilometro da casa mia. E quindi vedere soffrire, vedere la morte, perché molti pazienti che ho fotografato, poi il giorno dopo non c'erano più, perché purtroppo non ce l'avevano fatta. È stato toccante dal punto di vista proprio fisico, mentale e psicologico.